se lei dovesse descrivere una chiesa moderna con diciamo tre aggettivi quali scegliere umile preparata servizievole così l'arcivescovo riccardo fontana vede il futuro della chiesa in una delle diocesi più grandi della toscana quella di arezzo cortona e san sepolcro nel suo messaggio di natale a tutti i fedeli c'è spazio anche per una raccomandazione raccontare bene la realtà retina senza troppe polemiche arezzo esce dal 2017 faticoso dalle vicende della banca alle polemiche sull'accoglienza dei migranti fino ai tanti episodi di micro criminalità che stanno minando la serenità di questa splendida terra che il signore non abbandona nessuno e che la provvidenza c'è per tutti a condizione che diamo spazio a dio perché ci possa aiutare vorrei però anche aggiungere che sia l'auspicio e che ci sia una collaborazione vera tra la gente che si faccia più cooperazione e meno polemiche che non servono a nulla se non infastidire gli interlocutori e a fare notizia fuori misura non è nessuna tirata d'orecchio è invece un atto d'amore la considerazione per la mia gente che è meglio di come viene raccontata e vorrei che si prendesse in via a ritirare fuori le qualità di questa gente capace e ai responsabili di fare la parte loro perché si possa riattivare la vita civile della città sempre meglio che si faccia un'economia sana che si faccia una civiltà nuova al recupero delle nostre splendide tradizioni cristiane